Taranto, Viale Magna, Grecia, angolo Corso Italia, a pochi metri dal Rondò, guardate c'è qui un palo della pubblica illuminazione, vedete uno, due, tre bracci, uno di questi bracci è spezzato, lo vedete proprio lo sto indicando col dito ed è penzolante, è spezzato e piegato, è un pericolo, non voglio fare sensazionalismo o non voglio creare un procurato allarme ma la situazione è gravissima, io ora allerterò non solo l'amministrazione comunale, i vigili urbani ma devo chiamare ovviamente i vigili del fuoco perché intervengano prontamente. Quel palo è un palo killer, quel braccio del palo è un palo killer perché guardate io sto qui, potrebbe cadere, potrebbe cadere su chi sta camminando qui sullo spartitraffico ma potrebbe anche cadere e provocare danni ovviamente alle auto che circolano, una situazione incredibile, incredibile, questo ci fa capire anche come la manutenzione non viene affatto effettuata. Guardate, cosa aspettiamo? Che accada una tragedia? Cosa aspettiamo? L'ennesima tragedia per poi andare ad aprire le inchieste per individuare i responsabili? Bene, io ve lo sto dicendo, segnalerò alle autorità, ai soggetti competenti e ovviamente pretendo, anzi non io ma i cittadini pretendono un immediato intervento. Signori, con la pelle dei cittadini, con la vita dei cittadini non si scherza, ma questo lo dice lunga su una città che è amministrata alla Carlona, senza manutenzione, senza controlli, nella logica, nell'ottica di dire come va va e come va va, anche questo palo, questo braccio potrebbe andare a finire in testa a qualcuno. Amministrazione avvisata e mezza salvata. Amministrazione avvisata.